In via Sant'Antonio, nel cuore della città di Teramo, degli operai della ditta che stavano effettuando dei lavori di rifacimento stradale hanno rinvenuto delle pavimentazioni delle strutture murarie con il tonaco dipinto del I secolo d.C., di cui non si aveva notizia dai dati bibliografici e d'archivio. Immediato l'intervento da parte della soprintendenza, che data la sensibilità della zona nella quale erano già venuti in passato gli rinvenimenti archeologici attribuibili all'antica città romana, aveva prescritto la presenza dell'archeologo in cantiere per tutte le fasi di scavo. Noi sapevamo perché tutta la zona del centro storico di Teramo ha una perimetrazione nel piano regolatore come zona di attenzione archeologica, quindi avevamo previsto per tutte le fasi di scavo, anche minime, la presenza dell'archeologo in cantiere. L'approfondimento da cui sono venuti fuori i mosaici è stato dovuto alla necessità di rimuovere una vecchia conduttura del gas e ovviamente rispetto alle quote inizialmente previste siamo scesi ulteriormente andando a individuare i piani che abbiamo messo in luce di epoca romana. Una scoperta che ora porterà ad un'attenta mappatura dell'area interessata. Allora sicuramente dobbiamo finire di indagare, ove possibile perché avrete visto che il cantiere è disseminato di sottoservizi e di preesistenze, quindi i tre pavimentazioni che abbiamo trovato, due a mosaico e un tessellato. Dopodiché abbiamo intenzione nell'area di fronte alla farmacia Lucangeli, dove comunque storicamente è nota la presenza di una cisterna che già riaffiora, fare degli ulteriori approfondimenti. Ricordiamo che in via Sant'Antonio l'avvio dei lavori di rimozione di una conduttura di gas aveva portato alla chiusura della strada che rappresenta uno snodo per le auto in centro storico, ma ora con questa scoperta bisognerà capire quando la via potrà essere riaperta. Posticipare, non direi di molto, dipende tutto anche dal meteo, quanto ci viene incontro. Chiaramente noi ci rendiamo conto del disagio che si provoca in un'arteria come questa e per i negozianti, però ovviamente anche per questo l'idea di fare il cantiere aperto viene incontro anche all'esigenza di raccontare alla cittadinanza quello che stiamo facendo per sensibilizzarle e far comprendere che la nostra non è un capriccio, ma è una necessità ai fini della tutela e conservazione del patrimonio. Non vogliamo assolutamente bloccare la pavimentazione, vogliamo raccogliere tutti i dati per sapere eventualmente in futuro come operare in quest'area e per poter ovviamente far andare avanti le conoscenze circa l'assetto urbanistico della città romana.